Pubblico attento per le replica di Sernia dello spettacolo teatrale Café Vinson, i colori di un'epoca, scritto, diretto ed interpretato da Andrea Ortis e finanziato con i fonti dei percorsi voluti dall'assessore alla cultura Vincenzo Cotugno. Una bella serata, una partecipazione abbastanza buona, diciamo, per uno spettacolo che ha coinvolto, oltre ovviamente alla città di Sernia, anche la scuola. Vediamo un'esposizione dell'Istituto Manuppella, di bella fattura, complimenti ai ragazzi, agli insegnanti e alla scuola. A margine delle recite, i costumi ispirati dai quadri di Vincent Van Gogh, realizzati ed indossati dagli allievi del liceo artistico Manuppella di Sernia. Noi ragazzi del liceo G Manuppella di Sernia abbiamo realizzato 20 abiti ispirati da Van Gogh. Abbiamo realizzato dei quadri fatti alla scuola, all'artistico, abbiamo realizzato questi abiti e abbiamo realizzato anche delle scene, come vedete, ispirati da Van Gogh. I nostri abiti hanno un significato dietro presi dai nostri quadri che abbiamo a scuola e il mio abito, per esempio, che ho fatto io, viene dal dipinto di Van Gogh, l'albero della pesca. Poi praticamente il vestito di Flavia invece è la notte stellata con una collana realizzata a metalli, nel laboratorio metalli. Anche la collana è un rame da Van Gogh.